no ma com'era sarri lezione qua lezione di la lezione qua lezione di la tennis o che successe qua la c'era mi fanno rire a me mi fanno rire a me annaccia miseria è risaputo usa solo ha battuta juventus ha perso ha piato tre pallone a salirno usa solo ha battuto la juventus ha piato tre porpette a salirno salirno a juve ha vinto 0 3 per dirti a lazio ha battuto la juventus ha buscato cotorino in casa no ma quello maurizio sarri io ve l'ho detto io ve l'ho detto chiaro e tondo quando i partiti giustamente sono arrobate arrobate perché lazio juve o falle milingo vince stato fischiato a lautaro in inter benfica il gol del 2 a 0 di testa di lautaro l'albitro ha fischiato il fallo lo stesso fallo che probabilmente non è stato fischiato in seriato capi perché un fallo di milingo vince era fallo un parigi alla lazio no un vantaggio alla lazio era fallo quindi se la juve vince va secondo in classifica ma non ci credo perché un napoli o allora un napoli o piglia tre palloni per la botta psicologica che ha pigliato giustamente perché ho fatto la champions i punti e tutto o pigliamo noiate cinque palloni detto ciò detto ciò grande sarri le partite decisive le veramente le fa tutte 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 lazio lecce una 2 a 1 purecce azio torino 0 a 1 tutte tutte decisive sarri tutte decisive va bene va bene non voglio parlare no perché poi quello la che non capisce di calcio sono io quello la che non capisce di calcio sono io ma poi ciao 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 Grazie.